23 novembre Solennità di Cristo Re Oggi è il giorno giusto per ottenere un miracolo La solennità di Cristo Re è un momento di profonda riflessione e celebrazione nella vita cristiana In questo giorno, riconosciamo e affermiamo Gesù Cristo come il Re dell'universo, il Signore dei nostri cuori e delle nostre vite È un'occasione speciale per rinnovare la nostra fede e affidare a Lui le nostre preghiere, certi che il suo amore e la sua misericordia non conoscono confini Invochiamo la grazia del nostro Re, chiedendo che egli regni su di noi, illuminando i nostri passi e guidandoci lungo il cammino della vita In queste due preghiere, ci rivolgiamo a Cristo con cuore umile e fiducioso Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen O Cristo Gesù, io vi riconosco per Re universale Tutto quello che è stato fatto, per voi è stato creato Esercitate pure sovra di me tutti i vostri diritti Io rinnovo le mie promesse battesimali, rinunziando a Satana, alle sue illusioni e alle sue opere, e prometto di vivere da buona cristiana E del tutto particolarmente è me impegno a far trionfare secondo le mie forze e i diritti di Dio e della vostra Chiesa Divin cuore di Gesù, vi offro le mie povere azioni per ottenere che tutti i cuori riconoscano la vostra sacra regalità e che in tal modo, il regno della vostra pace si stabilisca in tutto il mondo Così sia O Gesù Cristo, nostro Re e Signore, oggi, nella Tua solennità, ci inchiniamo davanti a Te, riconoscendo la Tua sovranità su tutte le cose, su ogni pensiero, parola e azione della nostra vita Con cuore umile e fiducioso, ti invochiamo, regna su di noi, Signore, guida i nostri passi e proteggici dal male Illumina le nostre menti con la Tua verità, infondi nei nostri cuori la Tua pace, e rendici strumenti del Tuo amore nel mondo O Re della Gloria, ti chiediamo una grazia particolare in questo giorno santo Concedici la forza di affrontare le sfide della vita, la saggezza per discernere il bene, e la gioia di vivere ogni giorno nel Tuo servizio Fa che il Tuo regno venga in noi e attraverso di noi, così che possiamo testimoniare la Tua grandezza e la Tua misericordia a tutti coloro che incontriamo A Te, Cristo Re, sia lode e onore per sempre Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen 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 Grazie a tutti.